Amici di Fulvio e le sue ricette benvenuti oggi andremo a preparare una crostata ma di pasta si avete sentito bene crostata di pasta davvero eccezionale vediamo come prepararla partiamo con un trito base di sedano carote cipolla tagliato a tocchetti quindi andiamo ovviamente a lavare la verdura poi facciamo delle fette bastoncini e i cubetti e facciamo questo trito che non deve essere molto sottile quindi un trito un po grossolano il taglio che in cucina chiamiamo mirepoix dei cubettini di 5 6 mm quindi il taglio con la tecnica da chef fettina bastoncini cubetti tagliamo anche la carota e andiamo ad unire al sedano adesso la cipolla facciamo delle incisioni in questo modo lasciando una parte attaccata poi delle incisioni orizzontali andiamo a tagliare anche a due e poi facciamo il trito come vedete con questa tecnica riuscite a tritare in maniera agevole e facile una volta fatto la nostra base di sedano carote cipolla guardate che bei colori andiamo ai fornelli olio extravergine d'oliva fiamma dolcissima fiamma bassa andiamo a rosolare il nostro tito la nostra mirepoix perfetto una volta rosolata la mirepoix aggiungiamo il macinato di carne mista e facciamo rosolare a fiamma vivace quindi alziamo la fiamma e facciamo rosolare a fiamma vivace il nostro macinato è il momento di sfumare con del vino rosso secco sempre a fiamma vivace facciamo evaporare l'alcol e aggiungiamo il concentrato di pomodoro e lo facciamo sciogliere all'interno della pentola adesso dopo aver fatto sciogliere bene il concentrato di pomodoro aggiungiamo la passata di pomodoro in alternativa potete aggiungere la polpa di pomodoro e un mazzetto di aromi a vostro piacere legati con lo spago quindi lì date spazio alla vostra fantasia adesso ci andiamo a preparare invece la pasta brisè in una ciotola mettiamo la farina il burro freddo il burro freddo glielo facciamo sciogliere un po' con le mani aggiungiamo anche l'acqua che deve essere ghiacciata freddissima mettetelo un po' sul gelatore un pizzico di sale andiamo a impastare velocemente formando un panetto liscio e compatto mi raccomando questa è un'operazione che va fatta molto veloce per evitare che il burro si sciolga troppo adesso pellicola e un'oretta in frigorifero a far riposare perfetto adesso prendiamo il tagliere la provola e la tagliamo a cubettini prendete una provola non troppo acquosa o magari gli fate perdere l'acqua in eccesso in frigorifero una tagliata a bastoncini e poi a cubettini in questo modo perfetto anche questa semplice operazione è fatta andiamo a togliere i nostri il nostro mazzetto aromatico dal sugo aggiungiamo i piselli i piselli vogliono indicativamente 15 20 minuti cottura e adesso andiamo a preparare la besciamella sciogliamo il burro spegniamo la fiamma aggiungiamo la farina e formiamo il roux bianco questo composto di burro e farina in parti uguali adesso andiamo a portare ad ebollizione il latte con gli aromi pizzico di sale pepe e noce moscata appena raggiunge il bollore lo aggiungiamo al roux a più riprese in modo da evitare di formare i grumi quindi aggiungete un po di latte bollente e stemperate e andate a farlo sciogliere una volta assorbito ne aggiungete ancora un po e fate sciogliere perfetto alla fine riaccendete la fiamma vi aiutate con una frusta e portate alla giusta consistenza deve essere semi liquida la nostra besciamella guardate questa è la consistenza perfetta adesso andiamo a stendere la nostra pasta brisè prendiamo la riprendiamo dal frigorifero mattarello un po di farina 00 e la stendiamo per andare a foderare uno stampo vi consiglio uno stampo a cerniera antiaderente fate un bel cerchio in questo modo state attenti perché la frolla la nostra pasta brisè che è una frolla salata potrebbe spaccarsi andiamo a foderare bene lo stampo in questo modo coprendo sia la parte sotto che il bordo adesso l'acqua bolle sale grosso andiamo a mettere la pasta la cuociamo a metà cottura una volta cotta l'andiamo a scolare per bene e andiamo ad assemblare il tutto aggiungendo la besciamella il nostro sugo di piselli ragù di piselli e argamiamo il tutto aggiungendo sia la besciamella che il sugo fino a rendere il tutto molto molto cremoso vedete a più riprese vi regolate la quantità che servirà per rendere tutto molto cremoso e condito alla perfezione mi raccomando questa operazione fatela con la pasta ancora tiepida non la fate raffreddare troppo altrimenti si incolla appena avete amalgamato il tutto aggiungete il parmigiano grattugiato ancora andiamo ad amalgamare il tutto fatelo questo quasi alla fine amalgamato il tutto e adesso aggiungiamo alla fine la provola che abbiamo tagliato a cubettoni e anch'essa l'andiamo ad amalgamare guardate che bella pasta che stiamo facendo colorata gustosa e non ci resta adesso che andare a riempire il nostro stampo ovviamente cercate di fare andare per primo la pasta sui bordi in modo da mantenere ben salda la pasta brisee attaccata ai bordi in questo modo vi aiutate anche con le dita la attaccate per bene riempite tutto il vostro stampo e poi fate girato un po all'interno andate a richiudere l'interno della pasta brisee simulando una vera e propria crostata guardate che bella l'andate a finire anche sopra mettendo un po di sugo ancora ma non abbiamo finito dopo aver messo un po di sughetto andiamo a chiudere con la ricotta salata grattugiata prendete una ricotta stagionata adesso non ci resta che infornare e far cuocere a 180 gradi per circa 30 40 minuti guardate che bella aspettato un po una decina di minuti prima di sformarla e questo è il risultato guardate che bella alta con questa crosticina fragrante esterna in superficie con questa ricotta salata a scaglie bella anche da vedere l'andate a tagliare guardate come affonda bene il coltello e l'andate ad impiattare è davvero un classico piatto è la domenica ma potete prepararlo ovviamente anche in un'occasione particolare di una festa io me lo vado a gustare insieme a voi perché è davvero sfizioso e particolare anche bello da vedere potete metterlo al centro tavolo ognuno si serve la sua fetta vi saluto vi invito a seguirmi nei miei canali social iscrivetevi al mio canale youtube ciao a tutti da fulvio alla prossima ricetta ciao ciao ciao